Blitz degli attivisti di Greenpeace che si sono introdotti nel negozio The North Face nella Galleria San Carlo a Milano per protestare contro l'uso di sostanze chimiche pericolose nella produzione di abbigliamento e accessori. Gli attivisti hanno condotto un'azione dimostrativa impiegando coriandoli rossi, simbolo dei composti PFC all'interno e davanti al negozio del noto marchio. Grazie per la visione!